Otto nordafricani sono stati fermati e sospettati di essere i trafficanti che lo scorso giovedì hanno accompagnato verso le coste calabresi 37 migranti, dei quali ben 35 risultati tutti minorenni, poi accolti nel porto di Rocce Laionica. La Guardia di Finanza ha di fatti fermato e abbordato il peschereccio, senza nominativo e bandiera, su cui viaggiavano e che presumibilmente, partito dalle coste libiche, rimorchiava un battello più piccolo. Una volta arrivati a circa 80 miglia dalla costa, su quest'ultimo erano stati fatti trasbordare gli extracomunitari, poi messi in salvo. Il peschereccio invece, una volta libero del proprio carico umano, aveva invertito la rotta con l'intento di sfuggire ai controlli e riprendere evidentemente il suo traffico. L'unità, dopo essere stata fermata, è stata poi scortata anch'essa nel porto di Roccella, dove è giunta nella tarda serata del 4 giugno. Gli investigatori hanno appurato come i presunti trafficanti, usando appunto la copertura del peschereccio, abbiano utilizzato quest'ultimo agendo da nave madre in acque internazionali e celando così ridurre o eliminare il rischio di essere intercettati. L'equipaggio del peschereccio rischia ora e dunque di essere sottoposto alle stesse conseguenze patite precedentemente dai facilitatori trovati a bordo delle numerose imbarcazioni intercettate dalle fiamme gialle in questi anni e che, una volta riconosciuti colpevoli di traffico di migranti, sono stati sottoposti nei casi più gravi appena che oscillano tra i 5 e i 15 anni di carcere.